Il Vicepresidente Colombo è appena intervenuto per la dichiarazione di voto per la Lega Favorevole a bilancio consolidato. Che bilancio è uscito? Un bilancio strepitoso, un bilancio consolidato richiude tutte le società partecipate della regione Lombardia più chiaramente il bilancio di regione Lombardia. È un bilancio sicuramente speciale con un risultato positivo di 636 milioni di euro, quindi un risultato che è in linea con le principali regioni europee, un bilancio che pone regione Lombardia in una situazione di virtuosità e di concretezza che penso che poche regioni all'interno dell'Europa possono avere un bilancio simile. E soprattutto un bilancio che dà molta trasparenza, perché dà la possibilità ai cittadini Lombardi di poter apprezzare e valutare il nostro lavoro.